Musica 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 Così di colpo perché è picchiato Ah è Troppo negativo in terra Siamo a ritornare di davanti più alti Musica 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 Eh lo vedi adesso quando vieni giù No, vai! Prova la planata senza motore. Prova la planata senza motore. Buon appetito! Non male, non male, dai! Ciao a tutti, è oggi il 16 di aprile 2019, abbiamo appena collaudato, appena atterrato questo piccolo modello radiocomandato. Si tratta della semiriproduzione di un aereo progettato da Alexander Lippisch nel periodo 1937-38. L'aereo originale aveva due nomi in effetti, DFS-40, detto anche Delta V. DFS è una sigla, per me che non so il tedesco, impronunciabile, che si riferisce all'ente che negli anni 30 e 40 era responsabile del volo a vela in Germania. Alexander Lippisch ha studiato per diversi anni l'ala a Delta, che negli anni successivi, vale a dire anni 40 e 50, è stata adottata da moltissimi aerei militari. Nel modello, come nel vero, per motivi essenzialmente di bilanciamento, il motore è posizionato al centro della fusoliera e quindi si rende necessario utilizzare un albero di trasmissione che unisce appunto il motore, che in questo caso è elettrico, con l'elica posteriore spingente. Nel mio modello l'albero si è semplicemente un piccolo tondino in carbonio da 3 mm di diametro. Ovviamente per cercare di diminuire per quanto possibile le vibrazioni sono stati applicati due cuscinetti, uno al termine vicino all'elica e uno a metà campata dell'albero di trasmissione. Devo dire che di questo aereo si sa veramente poco, appunto anche a livello di colorazione, perché esistono soltanto 4 o al massimo 5 fotografie in bianco e nero dell'epoca. Si sa che al terzo volo, l'aereo originale, è entrato in vite e quindi si è distrutto. Fortunatamente per quello che riportano le poche notizie scarse che si trovano su Inter, sembra che il pilota si sia salvato dal crash. Però ovviamente dell'aereo non si hanno più notizie di questo DFS 40. Alcuni dicono, però sono notizie che andrebbero verificate, che la stessa pianta all'aereo e lo stesso profilo sia poi stato utilizzato su un altro aereo, il DFS 194, il quale a sua volta ha dato poi l'inizio alla serie dei caccia Messerschmitt a razzo, la serie 163. Oltre a Giangi Mazzari, che devo ringraziare, ringrazio anche Luigi Rossi, che è il responsabile della struttura tagliata con la sua macchina CNC, struttura che poi io ho ricoperto e rifinito, e anche il caro amico Dante Beretta, che è riuscito a lavorare sulla trasmissione con l'albero in carbonio e i due piccoli cuscinetti. Cosa non semplice, in quanto le dimensioni sono veramente a livello di orologio e quindi è necessario avere una precisione notevole. Grazie Giangi, grazie Dante, grazie Luigi. Alla prossima!